Buongiorno a Noa Planas, un influencer ma anche un'attrice, conduttrice e artista musicale. Benvenuta Noa. Grazie mille, grazie mille. La prima domanda che ti voglio fare riguarda il tuo percorso televisivo. Dal collegio a Super, cosa ci racconti del tuo percorso? Ma allora sono state due esperienze davvero molto molto interessanti e belle. Il collegio è stata un'esperienza che ho partecipato quando ero veramente molto piccola. Quindi l'ho vissuta in un modo diverso che l'esperienza di Super. Però entrambe mi hanno aiutato a maturare in certi versi. Il collegio, ad ogni modo, è stata un'esperienza molto particolare. Comunque mi hanno portato negli anni sessanta un'esperienza con dei ragazzi. Avevo comunque 15 anni, il taglio dei capelli. Un'esperienza bellissima. Da lì questa cosa è stata un trampolino che mi ha portato a fare tantissime altre esperienze molto molto belle e una di queste è stata super che ho avuto la possibilità di eh condurre questo programma dove parlavo di musica che tra l'altro è una cosa che amo fare quindi per me è stata un'esperienza bellissima e questa cosa mi ha fatto capire realmente cosa voglio fare nella vita che è condurre perché mi piace veramente tantissimo mi piace parlare mi piace poter comunicare con le persone ed è stata un'esperienza bellissima perché poi univa le cose che amo fare eh la musica, il canto, eh poter parlare, stare davanti a una telecamera per me è stato veramente un'esperienza stupenda, bellissima che rifarei altre duecentomila volte. Ma parlando invece a livello di di social media perché se tu sei anche un influencer tra le varie cose come ti come ti prepari alle campagne? Come pensi alla creatività per i progetti, per le collaborazioni? Ma allora eh io in realtà cerco di fare le cose più naturalmente cioè più naturali possibili perché più sei naturale e più può piacere anche al pubblico che ti segue perché sennò diventa proprio una pubblicità magari risulta noioso e non non bello magari si cerca sempre di essere più naturale possibile ecco. Come come ti approccio alla creatività? Come la pensi? Ma in realtà cerco di di fare sempre qualcosa di innovativo, di diverso senza cercare di copiare mai nessuno, cerco di fare qualcosa di mio. Hai un tuo modo personale di comunicare, un tuo storytelling personale? Sì ma in realtà inizio sempre con una storia parlata chiedendo come stanno le persone che mi seguono perché ci tengo, cerco sempre di comunicare anche con loro perché è grazie a loro che faccio quello che vorrei fare nella vita e mi scrivo sempre anche nei messaggi così per rimanere attivi, per poter dare la possibilità anche a loro di parlare con me perché ci tengono veramente tantissimo, mi vogliono davvero tanto bene e quindi cerco sempre di rimanere attiva e poi piano piano nelle storie cerco di parlare un po' in generale di qualsiasi cosa ecco. E quanto è importante proprio a proposito della community trasferire dei messaggi corretti e sicuri? Perché tu hai un pubblico molto giovane ovviamente che è la generazione Z. Allora io penso che sia una cosa veramente importantissima ed è un argomento cioè è una cosa cui tengo davvero tanto, cerco sempre di portare messaggi positivi al mio fandom come si dice perché adesso come adesso veramente è facile si aggrappano tutto ed è facile che la gente giudichi quindi cerco sempre di portare messaggi positivi ad esempio con House of Talent noi ragazzi abbiamo fatto anche un tour parlando di bullismo cercando di far capire le persone che è una cosa realmente sbagliata e che le persone ci possono stare molto male e in più io di mio sul mio profilo portato la body positivity così che dato che dal collegio adesso comunque sono cresciuta e le forme cambiano non si rimane uguali io ero molto piccolina molto magrolina e da quegli anni sono un po cambiata mi sono un pochettino formata e ho avuto inizialmente diciamo uno scontro molto brutto perché mi hanno iniziato a insultare ma io da quegli insulti ci ho fatto diciamo una forza e ho portato sul mio profilo quello che era la normalità in realtà no le smagliature piuttosto che un po la pancia che per me è una cosa realtà in realtà veramente normale e l'ho voluta portare così per aiutare le ragazze a far capire che è una cosa normalissima e non c'è veramente niente di male e sei consapevole di avere una forte responsabilità verso assolutamente so di avere una grande grande responsabilità perché mi seguono davvero tante persone tante ragazzine magari che poi mi vengono realmente a scrivere che hanno dei problemi e io cerco sempre sempre di aiutare perché non voglio che nessuno si senti male sia col suo col proprio fisico che con i propri problemi cioè cerchiamo di portare tutta la normalità parlando di generazione z di tik tok come i brand dovrebbero comunicare su questo mezzo secondo te quali consigli daresti a un brand che si vuole approcciare a questo mezzo ma in realtà un consiglio mi viene da dire come dicevo anche prima sempre con tanta semplicità perché più metti e più la gente come si dice adesso schippa cioè fa andar via il video perché non gli interessa spesso quando si vede che una pubblicità è più facile che le persone passino avanti però se metti qualcosa di semplice no adesso tanto si sponsorizza sempre con spesso con gli influencer no con qualcosa di veramente semplice anche parlando piuttosto che su tik tok con le canzoni secondo me basta realmente la semplicità quali sono le modalità che consegneresti a un brand per approcciarsi a questo mezzo quali sono proprio la tipologia di collaborazioni di challenge di musica che consiglieresti ma soprattutto le challenge perché spessissimo le persone vengono attirate dalle challenge perché possono poter duettare con una persona che magari la sponsorizzata che piace piuttosto li mettono alla prova facendo qualcosa di diverso e quindi secondo me le challenge sono veramente molto interessanti come cose e consiglio di pubblicità e poi delle musiche direi musiche del momento che vanno in quel momento perché così che le persone non sono annoiate non la vogliono fare piuttosto invece che sento una canzone del momento dicono vai questa si mi piace e la fai ed è già un video in più per il brezza